Prima di iniziare l'allenamento per la verticale, devi assolutamente fare una cosa, ovvero riscaldare i polsi. In questo video andremo a vedere una routine di riscaldamento che puoi utilizzare per la tua pratica, e la scopriamo subito dopo l'intro. Ehi Balancer, benvenuti in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Estend Academy, la prima scuola online di verticalismo. Aiuto le persone a uscire dalla fase di stallo che stiano cercando ancora di imparare la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo. Tutto questo grazie a un approccio estremamente tecnico di questa disciplina. Oggi appunto ti voglio mostrare una routine di riscaldamento dei polsi che puoi utilizzare per la tua pratica. Andare a riscaldare i polsi prima di andare a approcciare la verticale è molto molto importante perché previene degli infortuni e soprattutto dei dolori costanti e cronici sui polsi. Questo molto spesso è dovuto perché nella verticale si tende ad avanzare sempre con le spalle. E appunto per questo adesso andiamo a vedere una routine di riscaldamento dei polsi che puoi utilizzare prima di salire in verticale. Adesso come primo esercizio andiamo a eseguire degli sbilanciamenti in avanti. Cerca di mantenere le mani alla larghezza delle spalle, il dito medio che punta verso avanti, da qui le braccia completamente distese, e facciamo dei piccoli sbilanciamenti in avanti. Cerchi di sbilanciarti in avanti quel che riesci, non devi andare a esasperare per forza il movimento. Fai dei piccoli movimenti avanti e indietro per cercare di raggiungere il tuo massimo range di movimento. Andiamo a eseguire questo movimento per circa 20-30 secondi. Nel momento in cui vai verso avanti con le spalle, schiaccia anche il polso verso il basso, come se volessi riattaccare il palmo a terra. Quindi continuiamo ancora il movimento verso avanti. 8 7 6 5 4 3 2 1 Adesso andiamo a eseguire dei semicerchi, sempre rimanendo sbilanciati in avanti. Quindi da qui le spalle rimangono sbilanciate in avanti, noi siamo sulla parte anteriore del palmo. E da qui andiamo sinistra e destra. Sempre come se volessimo fare un semicerchio. Ok. Ancora 5 ripetizioni, 5 e ritorno. 4 Ritorno 3 Ritorno 2 Ritorno 1 Ok. Adesso andiamo a appoggiare il dorso della mano a terra, in questo modo. L'interno del gomito lo andiamo a ruotare verso avanti, perché se no rimaniamo con i gomiti piegati. Quindi interno del gomito in avanti. Il dito medio che punta verso le ginocchia. E da qui spingiamo le spalle verso dietro. Dovrai sentir tirare tutto l'avambraccio. Il braccio deve essere completamente disteso. Ricorda sempre di girare l'interno del gomito in avanti e blocca la posizione. Cerca di spingere un pochino di più le spalle verso dietro. L'idea è come se ti volessi andare a sedere sui talloni, in modo tale che ti tirano sempre un po' di più delle braccia. Quando sei in queste posizioni, respira e aspetta sempre un po' di secondi. Cerca di rilassare il più possibile, non stare in contrazione con tutti i muscoli. Rilassa il più possibile le braccia, però allo stesso tempo metti un po' più di pressione verso dietro. Man mano cerchi di scivolare sempre più indietro con le spalle. Mantenuta questa posizione, adesso andiamo a mettere le mani a 180 gradi. E andiamo a spostare le spalle destra e sinistra. E andiamo. Uno, e vado a sinistra. Due, sinistra. Tre, sinistra. E' molto importante che la spalla è in linea con il polso. Le spalle non devono essere più indietro o non devono essere troppo in avanti, come se fossi in planche. Ma dobbiamo cercare di mantenere sempre le spalle sul polso. Continuiamo ancora il movimento. E ancora. Dieci ripetizioni a partire da adesso. Dieci. E. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Ok. Da questa posizione adesso, inizialmente manteniamo più peso sulle gambe. Quindi le spalle sono un po' più indietro rispetto al polso. E da qui cerchiamo di sollevare il palmo e spingiamo con il polso per sollevare il palmo. In questo modo. Inizialmente lo facciamo così, poi man mano aumenteremo l'intensità. Quindi andremo a spostare le spalle in avanti. Adesso continuiamo con il movimento. Andiamo a fare quindici ripetizioni di questo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Adesso spostiamo le spalle in linea con il polso. Quindi la maggior parte del peso deve essere proprio sulle braccia, a differenza di prima che era sulle gambe. E da qui andiamo a fare otto ripetizioni, cercando di scaricare più peso possibile qui sulle braccia. Attenzione che quando devi scendere non rilasciare completamente giù, ma cerca di scendere anche lentamente. Andiamo con la terza. E scendo. Quattro. Scendo. Cinque. Scendo. Sei. Scendo. Sette. Scendo. Otto. Scendo. Nove. Scendo. Dieci. Ok. Perfetto. Da qui adesso andiamo a prendere le dita, andiamo a stendere completamente il braccio. Spingiamo le dita come se le volessimo far arrivare all'avambraccio. Quindi dobbiamo tirare bene bene bene, dobbiamo sentire che tira l'avambraccio. Soprattutto dobbiamo cercare di distendere completamente le dita. Manteniamo quindici secondi. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E andiamo a ruotare l'altra mano. Braccio completamente disteso, dita completamente distese, tiriamo dalle dita come se le volessimo far arrivare all'avambraccio. Da qui. Ancora. Quindici secondi. Quattordici. Tredici. Dodici. Undici. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Ok. Adesso facciamo la posizione IV. Quindi, mani in larghezza delle spalle, talloni altissimi. Da qui facciamo dei piccoli sbilanciamenti in avanti. Ricorda sempre di spingere al massimo con le spalle. Le spalle devono andare oltre il polso. E da qui ne facciamo altre dieci. Quindi da qua vado. Uno. E spingo indietro. Due. Fai sempre contrapposizione con i talloni. Mantieni lì sempre alti. Tre. E quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Blocchiamo dieci secondi e rimaniamo leggermente più avanti. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Ok. E adesso che hai scaldato bene i polsi puoi salire in verticale. Spero che questa routine di riscaldamento per i polsi ti sia piaciuta. E spero fortemente che la utilizzerai sempre prima di salire su in verticale. Soprattutto prima degli allenamenti. Ricorda sempre di scaldare bene i polsi. Perché non riscaldare i polsi e avere posture sbagliate nella verticale. Purtroppo nel lungo termine porta a infortuni e dolori cronici. Quindi cerca di prevenire. Soprattutto dall'inizio. Scalda sempre bene i polsi prima di allenare la verticale. E prendila proprio come un'abitudine. Ogni volta che devi allenare la verticale. Ti ricordo che se stai cercando ancora di raggiungere la verticale libra. O gli elementi avanzati del verticalismo. Ma non riesci a procedere. Perché sei in stallo. Ti lascio nella descrizione del video il link per eseguire la chiamata gratuita. Spero che questo video ti sia stato utile. Lascia un bel like. Un bel commento. Iscriviti al canale se non sei ancora iscritto. E attiva la campanellina delle notifiche. Perché settimanalmente usciranno sempre i contenuti inerenti al mondo della verticale e al verticalismo. E noi ci vediamo al prossimo video.